In compagnia di Claudio Arcioni che è responsabile dell'organizzazione dell'evento e responsabile anche della importazione a Rio in Italia, ci facciamo spiegare un pochino se così possiamo dire la parte italiana, l'importanza della parte italiana visto che sono appunto due metà che si baciano potremmo dire questa sera, cioè il cibo italiano, la parte che riguarda il cibo in questo evento, che parte avrà, che posizione avrà? Questo evento è importante perché è un orientamento nel consumo di prodotti di qualità sul mercato italiano, presentiamo questa sera una serie di champagne della Metonna Rio abbinati con piatti tradizionali della cucina italiana. Perché questo incontro? Perché ormai il mondo è molto vasto quindi l'eccellenza dei prodotti non ha confini. È importante anche, l'abbiamo chiesto ovviamente a Messina Rio, ma ovviamente io chiedo anche a lei questo momento diciamo di promozione della Francia, un momento simbolico, anzi o meglio un evento simbolico in questo momento drammatico di promozione della Francia? Ma questo è un momento drammatico della Francia, però a un certo momento penso che i prodotti non sono di questo, in questo momento abbiano dei riflessi negativi nei consumi. Noi presentiamo questo champagne perché in questo momento? Perché lo champagne ha una grande immagine come regalo, è un prodotto elegante, risolve molti problemi, ci avviciniamo nel periodo delle festività e quindi è un prodotto che sicuramente risolve molto problemi e chi deve fare regalo e non sa che cosa scegliere. E un accenno lo possiamo fare agli abbinamenti che ci saranno nel menù? Sì, abbinamenti facciamo una cosa internazionale come antipasto, lo facciamo con del salmone che non è molto la tradizione italiana, però per abbinare un buon champagne come discorso d'entrata lo facciamo con un discorso di prodotto un po' internazionale. Poi gli altri prodotti saranno un tipico piatto di pasta che sarà condita col parmigiano perché il parmigiano con lo champagne è un ottimo abbinamento. Poi avremo un champagne millesimato fatto con pino nero che si abbina bene con un piatto di Sanzibocchi alla romana che è un piatto un po' tipico della nostra cucina. Grazie a Claudio Arcioli, buona cena.